E adesso parliamo di uno storico passaggio di consegne tra Ulse 6 Euganea e azienda ospedaliera. L'ospedale Sant'Antonio passerà definitivamente in gestione all'azienda. Sentiamo. La data è quella del 1 gennaio 2020. Sarà il momento del passaggio del testimone tra Ulse 6 Euganea e azienda ospedaliera con quest'ultima che gestirà l'ospedale Sant'Antonio. Si chiude la porta delle polemiche con le rassicurazioni che servizi territoriali ai pazienti e trattamento dei dipendenti rimarranno tali anche dopo il passaggio di consegne per i prossimi dieci anni. Si apre il portone della sanità d'eccellenza con l'azienda che punta ad investire e ad organizzare ancora meglio le due strutture. Non cambia nulla a quanto pare dal 1 gennaio 2020. Non solo non chiude niente ma l'impegno che abbiamo raggiunto oggi con l'USL Euganea congiunto, impegno congiunto, non di una sola delle parti è di continuare a mantenere tutti i servizi che ci sono oggi con la stessa qualità, con la stessa quantità e nelle stesse sedi. Noi garantiamo servizi ospedalieri e territoriali e non lunari. Quindi sappiamo esattamente di che cosa parliamo e siamo non convinti, siamo sicuri e ci impegniamo noi a far sì che questa dimensione dei servizi che oggi vede impegnato il Sant'Antonio non veda nessuna riduzione in nessuna sede. Lunedì ci sarà l'incontro con i sindacati con i quali i vertici di azienda e ULS sono convinti di poter trovare un accordo senza troppi intoppi. Poi ci sarà il rapido iter burocratico. Un momento storico per due realtà distinte che ora si uniscono in un corpo unico. Che ULS 6 sarà senza il Sant'Antonio? Sarà una ULS 6 in salute perché la ULS 6 è uno dei tasselli del sistema regionale per cui a livello di assistenza regionale, di sistema sanitario regionale di Veneto non cambia assolutamente nulla. Un po' di numeri. Sono 4.800 i dipendenti dell'azienda ospedaliera 948 tra medici, infermieri e personale sanitario del Sant'Antonio. 60.000 i ricoveri all'ospedale civile nel 2018, poco più di 9.000 al Sant'Antonio dove però sono state anche erogate quasi 47.000 prestazioni ambulatoriali più 5.000 per non residenti. In totale a Padova ci sono 1.700 posti letto con l'obiettivo di raggiungere i 1.800 nei prossimi anni. 100.000 accessi al pronto soccorso all'ospedale, 25.000 al pediatrico, 31.000 al pronto soccorso del Sant'Antonio. Numeri importanti che guardano al futuro del nuovo ospedale per il quale potrebbe essere firmato l'accordo di programma già a metà del 2020. Di fatto noi abbiamo un cronoprogramma che direbbe che nel 2028 abbiamo un nuovo ospedale a Padova Est e abbiamo finito i lavori in via Giustiniani.